ciao amici bentornati sui fatti l'opinione di lox il canale per i veri malati di sport parliamo di serie b un grandissimo derby lombardo la partita tra il monza e il como è stato infatti una delle più belle che ho assistito quest'anno ma c'è un grande però di cui parleremo più avanti comunque incontro straordinario vinto tra due dal monza con una rete decisiva di macina all'ottantottesimo minuto un bolide assolutamente imprendibile nell'angolo di facchin che era subentrato al posto di gori partita strepitoso da un punto di vista agonistico e anche da un punto di vista tecnico giocata veramente bene da entrambe le formazioni primo tempo dominato giocato molto bene dal monza che l'abbiamo detto tante volte anche in questo canale è una squadra quest'anno molto più competitiva molto più compatta molto più credibile del monza dello scorso anno sia per guida tecnica sia per scelta dei giocatori stroppa sta dando una dimensione a questa formazione che ormai con questo non perdere il primo di ottobre nelle ultime sei partite ha vinto le tre partite in casa ha pareggiato le tre partite in trasferta 12 punti in sei giornate e sta prendendo ormai ritmo ottavo posto sta entrando nella zona playoff per il como la prima sconfitta dal 21 settembre non cambia niente di tutto quello che penso che ho detto del como fino adesso è una squadra straordinaria è una squadra che stavolta ha denotato qualche la qualche limite difensivo soprattutto nel corso del primo tempo contro questo monza però che ha giocato così bene come non gli era mai capitato nel corso della stagione ma poi nel secondo tempo aveva ribaltato la partita in una maniera straordinaria ha provato a vincerla il colpo del gol del finale è qualcosa che esula dal gioco dalla tecnica del da una qualcosa di tattico è semplicemente una gran giocata di macin come detto primo tempo monza tante occasioni due reti segnate due pali un'altra occasione respinta dalle parti della linea il como ci ha messo in però del suo soprattutto nei primi minuti con una grandissima opportunità a mio avviso un totale calcio di rigore negato a cerri per un abbraccio di paletta che l'incredibile arbitro serra la nota di più brutta di questo pomeriggio che è stato pieno di tante belle cose ma trovo incredibile che l'arbitraggio che serra ha avuto nel corso di questa partita comunque monza trova l'uno a zero tutti i gol tra l'altro di questa partita sono stati strepitosi il gol dell'uno a zero una palla eccezionale di vignato in profondità che trova danni danni motta motta carvaio solo a tu per tu con scaglia scaglia stavolta si fa sorprendere non azzarda l'intervento motta lo supera e batte gol da due passi il monza trova il gol del 2 a 0 al 29esimo con d'alessandro strepitoso d'alessandro penso sia uno dei giocatori migliori di questo monza un giocatore eccellente che va sulla fascia dalla palla in mezzo ancora una gran giocata di dei moto a carvaio e un tiro che porta il monza in vantaggio per 2 a 0 andiamo alla pausa nella ripresa il como fa il grande cambio che cambia tutto ovvero toglie io avvi ne mette parigini parigini sarà strepitoso nella sua mezz'ora che gioca nel corso di questa partita como che presa alto recupera il pallone proprio con parigini dall'azione una sponda di quelle classiche sue di cerri e si avventa sul pallone bellemo e trova il gol del 2 a 1 5 minuti dopo il como in perfetto stile di questa squadra britannica trova il gol del 2 a 2 grande azione anche questa cosa sulla fascia il centro di parigini vignali dell'altra parte ribadisce sul 2 a 2 poi è il como più pericoloso al monza è un po' sparito dal gioco la sostituzione soprattutto di vignato ha molto indebolito il monza che gli ha tolto molto delle dimensioni della dimensione della profondità offensiva della squadra di stroppa però come non riesce a trovare il gol del 3-2 c'è una bella occasione delle volte c'è un po' troppo egoismo c'è riattirato quando era meglio passare un tiro di lagumi era respinto però questo questo superiorità del como non porta il gol del vantaggio quando sembra tutto avviato a questo pareggio ci pensa macin che recupera una palla a centrocampo su un intervento un po' solini e soprattutto cagnano che nel cerca un passaggio in profondità con tutti gli avversari per quanto cerri riesca a tenere su una miriade di palloni alle volte non ce la fa anche lui a vincere proprio tutti i contrasti la palla è recuperata ma ci trova il tiro il classico tiro della domenica una palla all'angolino l'immagine di copertina e fa chi viene battuto il monza vince questa partita a mio avviso ai punti per quello che vale il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto e però il monza dimostra ancora ulteriormente questa sua compattezza ritrovata dimostra di essere una squadra veramente che potrà fare bene il como credo che questo campionato da protagonista che sta facendo questa partita appunto come detto non cambia assolutamente niente c'è forse soltanto un po' da registrare qualche movimento difensivo che alle volte quando gli avversari prestano in maniera vehemente mostra qualche lacuna qualche buco ma per il resto soprattutto dal centrocampo in attacco il como è una squadra strepitosa e soprattutto è molto divertente da vedere pagelle monza portiere di gregorio voto 7 una sicurezza assoluta soprattutto sulle uscite un portiere eccezionale linea difensiva grande esperienza però oggi donati 6 bene nel primo tempo carato nella ripresa paletta 5 e mezzo oggi non mi è piaciuto per quanto con col mestiere le porta a casa quasi tutte anche perché ha grande credito sugli arbitri però oggi l'ho visto un po' ha fatto fatica più volte così come il compagno caldirola anche per lui il voto è 5 e mezza poi 5 e mezzo centrocampo per pereira voto 6 e mezzo soprattutto grazie a un gran primo tempo primo tempo 7 a colpani strepitoso nell'arco di un primo tempo eccellente dove ha giocato veramente un calcio sopraffino 6 a barberis e 6 e mezzo a valotti soprattutto anche lui nel primo tempo splendido 7 e mezzo il voto ad alessandro uno dei giocatori chiave di questo monza giocatore che è in grado di ricoprire una multitudine un'infinità di ruoli assoluta soprattutto anche lui nel primo tempo splendido così come mota carvaio il voto è 7 e mezzo 7 a vignato giocatore di talento veramente puro quando è uscito lui la luce del monza si è spenta per quanto riguarda il como 6 al portiere gori oggi sfortunato ha potuto poco studiazioni dei gol e poi si è infortunato in chiusura del primo tempo 7 a vignali soprattutto nel corso di un secondo tempo al di là di gol strepitoso per sprint e per grinta 6 a scaglia che oggi male sul gol poi è qualche buona chiusura ma oggi un po' faticosa la sua prestazione così come per solini voto 6 con barnier il como è un pochino più quadrato 5 e mezzo a caniano perché l'uscita sul gol del finale decisivo al tra due è troppo grave 5 e mezzo a jovine un primo tempo un pochino incalando è troppo meglio di lui parigini stavolta 7 a capitano bellemo strepitoso come sempre in mezzo al campo 6 a rigoni oggi leggermente sotto rispetto ai suoi standard 6 e mezzo a ciaia giocatore sempre fantastico per le accelerazioni che riesce già a dare 7 e mezzo a cerri semplicemente strepitoso ma oggi il nemico più forte per cerri è stato l'arbitro serra e 6 e mezzo per lagumina che fa sempre un gran movimento delle volte forse soltanto un po' evanescente straordinario parigini e mi è piaciuto molto io hanno anche quel poco che ha giocato invece il voto all'arbitro serra oggi è 3 è incredibile che questo fischietto 39 anni 91 partite in serie b ma solo 9 in serie a per tutto non conosca la regola del vantaggio perché ha fermato almeno 3 o 4 occasioni tre volte nel como una volta nel monzo scegliendo di fermare il gioco invece di concedere vantaggi anche piuttosto elementari secondo io sono assolutamente convinto che il primo rigore e la prima giocata su cerri fosse da rigore sul secondo l'incrocio con penso donati non ho visto bene il giocatore del monza ho qualche dubbio in più il terzo invece richiesto su vignali penso che sicuramente almeno su quello abbia visto bene indisponente un po' provocatorio e la scelta di esplendere cerri nel finale dopo tutto quello che gli ha fatto nel corso della partita l'ho trovata anche da un punto di vista diciamo del buon senso poco valida una brutta giornata capita chiunque in questo caso serra è stato sicuramente la nota più brutta di un gran bel derby 7 alla telecronaca di barone grazie ragazzi iscrivetevi al canale siamo quasi 850 mi piacerebbe arrivare a questo ulteriore bello obiettivo like per il video campanella per essere avvisati dei prossimi contenuti intanto vi saluto vi ringrazio ciao a tutti e un bacio talox